Hai mai desiderato imparare marketing in modo facile e coinvolgente? Ciao a tutti! Sono Cinzia e sono qui per presentarvi il nuovo romanzo mozzafiato, Il massimo esperto di marketing. Ma cosa rende questo romanzo così speciale? Beh, lasciatemi spiegare. Il massimo esperto di marketing è un romanzo unico nel suo genere che sfrutta il potere del racconto per insegnare i principi base del marketing. È perfetto per tutti coloro che desiderano imparare senza dover affrontare testi complessi e noiosi. La storia segue le avventure di un commerciante che di notte viene contattato da un misterioso guru immaginario. Insieme, esplorano i principi di marketing di Philip Kotler, uno dei più grandi esperti del settore. Preparatevi ad essere coinvolti in un'avventura emozionante e allo stesso tempo a imparare i principi fondamentali del marketing in modo facile e coinvolgente. Non perdete l'opportunità di immergervi in questa straordinaria storia e di acquisire conoscenze di marketing fondamentali. Acquista il tuo esemplare di Il massimo esperto di marketing su Amazon e inizia il tuo viaggio nel mondo del marketing oggi stesso.